Molino nero confermato, già alle 14 c'era una tendenza in aumento anche di traffico rispetto all'anno scorso del 4%, abbiamo avuto coda ai caselli, siamo arrivati a 4 km al casello di Lisert, anche lungo l'arteria tra San Donà e Porto Gruaro ci sono state delle code a tratti e al nodo di Palmanova. Il traffico è stato più fluido soprattutto nei tratti delle tre corsie, all'interno di questi non ci sono state code e abbiamo notato anche una tendenza alle partenze anche durante la settimana. Durante la settimana abbiamo già un aumento del 2% di traffico durante tutte le giornate di media. Sicuramente influisce l'informazione sia nel saper prendere le informazioni con tutti i sistemi anche che abbiamo a disposizione, anche tutte le informazioni che vengono date a livello nazionale e quindi si capisce che ci sono delle partenze diverse rispetto agli anni scorsi. Comunque anche durante la giornata di sabato si sono confermate le partenze di esodo pure, c'è un aumento anche nella giornata di sabato. Sì, non siamo colpi di certo di sorpresa in quanto per noi abbiamo gli strumenti per prevedere questo traffico anche guardando i dati storici, le nostre forze erano già in campo. Noi in una giornata come questa mettiamo una task force di circa 220 persone nei mestieri diversi che servono per gestire giornate di questo genere. Grazie. Grazie.